130 attestati di merito per 130 giovani studenti delle scuole medie di Pesaro che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato 2022. Un'eccellenza che è stata premiata dallo stesso comune che ha deciso di consegnare un riconoscimento a tutti coloro che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con 10 o 10 elode. Dare e consegnare questo premio oggi a questi ragazzini e ragazzine della nostra città che si sono contraddistinti per l'eccellenza nell'esame di Stato è sicuramente fonte di orgoglio e un doppiamente brave e bravi perché questi anni di scuola sono stati particolarmente complicati. Oltre il voto c'è la passione per lo studio, la passione per la conoscenza che li renderà sicuramente liberi e felici nel prossimo futuro. L'augurio per tutti loro è che possano realizzare i propri sogni mantenendo questo amore per la conoscenza e la passione nello studio. La scuola rappresenta da sempre la prima formazione insieme alla famiglia è un punto di riferimento per le nuove generazioni che hanno subito e hanno vissuto delle esperienze che noi adulti possiamo solo immaginare e quindi il mio augurio è che loro possano trovare la propria strada e costruire il proprio futuro a seconda di quelle che sono le proprie aspirazioni. Nell'attestato, oltre al nome dello studente e al ringraziamento da parte del comune di Pesaro per l'importante risultato raggiunto, figurava anche una poesia dell'icona dialettale pesarese Carlo Pagnini, con la quale ha voluto trasmettere il senso della vita alla generazione del futuro. Un messaggio che voglio dire lo dico più facilmente se lo metto in versi piuttosto che fare un gran discorso che non è per me, io non sono un dicitore. Che titolo ha questa poesia? Va, cioè è stato proprio in quel momento perché può capitare a tutti di avere un momento in cui uno dice ma insomma cosa non ti affetto in questo mondo? Non poteva affetto ma anche di darmela a questa vita. E alla fine insomma pensandoci bene concludevo sempre dicendo ma sì vale la pena, vale la pena viverla allora va, l'umaghena va, non te fermè. Ed è questo il messaggio che vuole trasmettere ai giovani di oggi? Il messaggio che volevo trasmettere e che voglio trasmettere è proprio questo quindi io sono contento, sono soddisfatto quando mi dicono che ho scritto tanto ma sono tutti messaggi che voglio dare.